Musica Non ne ho idea signore Bravo 6, agente Griggs, appena attivato il transponder di emergenza, 500 metri a sudode, passo Arriviamo, bravo 6, chiudo Andiamo Veicolo nemico davanti a noi Versaglio abbattuto Avanzare Versaglio neutralizzato Abbattuto Versaglio eliminato Buonanotte Nemico eliminato Area sicura Di sicuro tengono Griggs in uno di quegli edifici Entriamo dalla porta del seminterrato Da lì perlustriamo stanza per stanza Silenzio e muoviamoci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Stanza sicura Piano sicuro Passiamo al secondo Grazie a tutti Raggrupparsi qui da me di sotto Ricevuto Passiamo al prossimo edificio Non fate rumori Stop Vai a controllare Grazie a tutti Grazie a tutti Sta facendo giorno Non rimane molto tempo Grazie a tutti Direi che ci siamo Pronti a entrare Via 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 Sob libera Griggs Forza Giusto in tempo Cominciavo a credere Che mi avresti lasciato qui Ragazzi Volevamo lasciarti qui Ma ci serve il tuo C4 Tutto bene? Sì Pronto ad andare Abbattiamo la torre Così le squadre Supereranno la recensione Elettrificata 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 Passo Qui squadra 2 Siamo alla recensione In attesa che togliate la corrente Passo Cariche piazzate Allontanatevi Fai saltare tutto Cariche piazzate Cariche piazzate Charli 6 Torre abbattuta Non c'è corrente Avete 20 secondi Ricevuto Stiamo facendo breccia In attesa 10 secondi Al ripristino della corrente Attendete 5 secondi Ok Siamo dentro Bravo 6 Vi attendiamo Al punto di incontro Passo Ricevuto squadra 2 Arriviamo Chiudo Via quella recensione Avete 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 Elicotteri nemici Gas, prendi sopra gli altri ed esplorate la base Griggs e io cerchiamo un'altra strada Mi serve del fuoco di copertura Iniziale Uomo a terra Di copertura Granata! Granata! Truppe nemiche a sudovest! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Mi serve del fuoco di copertura. Attenti, elicotteri in avvicinamento! Emici a ovest! Truppe in arrivo! Contatti a ovest da qui! Cuovo la terra! Mi serve del fuoco di copertura! Contatti a ovest da qui! Ricarico! Ricarico! Contatti a ovest da qui! Paribigiano fa' Arrivo! Scippi! Scippi! Sippi! Sippi! R.P.G. NEMICI SUI DEZI 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 Sì, vieni! Nemici a nord-est. Area sicura. Nemici a nord-est. Ci sono degli RPG sui tessi. Nemici a nord-est. 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 Granata! Mi serve fuoco di copertura! Perfetto! non sparate è una delle squadre di cecchini americani è un piacere vedere che ce l'avete fatto una volta dentro abbiamo un bel problema ce n'è un altro i missili lanciati sono due lo ricevuto bravo 6 i satelliti li hanno individuati penetrate all'interno della struttura prendete controllo della sala comandi intanto tenteremo di ottenere i codici di annullamento dai russi passo e chiudo siamo messi bene capitale grazie a tutti bravo 6 siamo ancora impegnati con i russi a breve